E' rientrato dalla Germania e si è costituito dai carabinieri di Sant'Agata di Militello, Salvino Messina, 37enne orlandino, la terza delle persone raggiunte all'ordinanza di custodia catelare firmata dal GIP Molina perché accusati di gestire nel club Lady Arion di Capodorlando un giro di prostituzione. Per gli investigatori dell'arma era lui l'ultimo nello dell'associazione e insieme a Mauro Abadessa e Daniele Galano erano a capo dell'organizzazione che aveva registrato come associazione culturale senza scopo di lucro attività commerciale destinata invece ad essere adibite a Night Club nelle quali con intimidazioni, minacce e violenze si costringevano le ragazze a prostituirsi. Da una denuncia fatta ai carabinieri il 6 giugno del 2013 da una delle ragazze che lavoravano nel Night Club sono scattate le indagini che hanno portato giovedì all'arresto di Abadessa e Galano. Per i due oggi gli interrogatori di garanzia Abadessa ha risposto al GIP raccontando la sua versione dei fatti, diversa da quella cristallizzata nelle 62 pagine dell'ordinanza firmata dal GIP Molina. Qui si legge che lo scenario emergente dalle denunce, dalle intercettazioni telefoniche, dagli sms e dalle testimonianze dirette delle ragazze che hanno operato all'interno del Night Club era capricciante. A capo di tutto secondo gli investigatori c'era Mauro Abadessa che avrebbe costretto le donne ad avere rapporti sessuali a pagamento con gli avventoni del locale e per farlo non avrebbe esitato a insultare, minacciare, umiliare o avere atteggiamenti di prevaricazione di vario genere, come raccontato nella denuncia alla ragazza. E le violenze non sarebbero state solo verbali. I carabinieri sono riusciti anche a stabilire quanto percepissero le ragazze. 40 euro al giorno per 4 giorni di lavoro a settimana e da questa cifra dovevano essere detratti 5 euro ciascuna per l'affitto di una casa che veniva messa a disposizione loro da chi gli dava da lavorare. Per ogni consumazione dei clienti che pagavano 10 euro loro ne sarebbero andati due. In quei casi veniva consegnato alle ragazze un braccialetto che indagava la consumazione fatta dal cliente. Sempre un braccialetto ma di colore diverso sarebbe stato invece consegnato alle ragazze in caso di prestazione sessuale. Un rapporto sessuale completo sarebbe stato pagato tra i 100 e i 150 euro. Da questa somma la metà sarebbe dovuta andare alle ragazze ma in realtà stando alle testimonianze raccolte Abadessa le avrebbe pagate solo 25 euro. E i rapporti come emerso dalle indagini dei carabinieri avvenivano anche al di fuori del locale a prezzi maggiori. In questo caso Abadessa si sarebbe servito di Daniele Galano per prendere le ragazze e portarle dai clienti. Devi andare subito al bingola, devi andare a prendere subito. I prezzi per i rapporti fuori del locale andavano dai 125 euro fino ai 300.